Beni per 630.000 euro sono stati sottoposti a sequestro da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno nei confronti di due fratelli di 40 e 35 anni, entrambi residenti a Livorno per aver omesso nell'anno 2013 in qualità di amministratori di una società nel settore dei trasporti di merce su strada versamenti di IVA e di ritenute per circa 500.000 euro. Le indagini sono partite dalla denuncia a querela sporta da un istituto di credito in seguito alla concessione di linee di credito sotto forma di anticipi alla società e una ditta individuale riconducibile al padre dei due fratelli dietro la presentazione di fatture per operazioni inesistenti. Dagli accertamenti investigativi condotti dal nucleo di polizia tributaria di Livorno sono emerse falsità delle fatture per un importo complessivo pari a circa 570.000 euro. non registrate in contabilità e non rinvenute dai fornitori indicati nei documenti, essendo state utilizzate al solo scopo di ottenere un'immediata liquidità dal sistema finanziario. È stato così appurato un danno complessivo nei confronti dell'istituto di credito per circa 330.000 euro, pari alla differenza fra l'importo dell'anticipo ottenuto e quanto non restituito. Nel corso degli accertamenti di natura fiscale sono stati riscontrate inoltre mancati versamenti per 195.000 euro di ritenute e 280.000 euro di IVA con la denuncia alla Procura della Repubblica dei due fratelli amministratori protempore succeduti al padre. Il GIP ha quindi disposto il sequestro preventivo di denaro e beni fino alla concorrenza dell'importo di circa 630.000 euro. Grazie a tutti.